L'Assemblea ha deliberato la messa di liquidazione del Consorzio PIP. I consorziati hanno seguito le indicazioni che arrivarono direttamente dal Comune, dove l'amministrazione Cariello da tempo sottolineava la necessità di superare lo schema consortile per rilanciare l'area, le attività e l'occupazione, favorendo gli investimenti. È uno straordinario risultato per il rilancio dell'area PIP, ha commentato il Sindaco di Eboli Massimo Cariello, obiettivo programmato da tempo che ci consente di superare ostacoli burocratici che rallentavano l'apertura totale agli investimenti e alle attività, che insieme significano economia e lavoro. Sottolinea la gestione molto positiva del Consorzio da parte del Presidente Trotto e del suo precedessore Gagliardi. In soli due anni si è definita la partita dei crediti e dei debiti tra Comune e Consorzio, liberando attività e programmazione, procedendo con gli oneri di urbanizzazione e la sdemanializzazione delle canalette che hanno fatto recuperare spazi e pertinenze. Il prossimo obiettivo è l'assegnazione completa dei lotti con bando pubblico ed è previsto l'ampliamento dell'area a partire dal prossimo piano urbanistico comunale.